Il centro-destra unito vince sempre le elezioni con anche dei buoni candidati capaci di vincere ma anche che diano affidamento per un buon governo per gli anni successivi. C'è paura per questa fuoriuscita dei totiani precedenti? No, io da sempre non credo che ci sia possibilità per un partito che voglia ripetere Forza Italia di affermarsi, d'altronde tutte le altre volte che qualcuno è uscito da Forza Italia cercando di fare un partito mi sembra che questo non abbia avuto successo quindi credo che si ripeta la stessa storia di tutte le altre volte. Su 40 deputati europei che sono stati incaricati di lavorare per le materie da inserire nelle varie commissioni di governo l'Italia ha un solo rappresentante e questo la dice lunga su come oggi sia considerata l'Italia. Ho parlato questi giorni con un leader del governo europeo e la cosa che mi ha detto è ma come avete fatto a consegnare il vostro paese in queste mani? Chi era? Ha parlato con la Merkel? No, non ho parlato, penso che la vedrò giovedì a Bruxelles.